Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie della Sky Reams Allora, sono un attimo qui nella mia isola perché oggi dobbiamo andare avanti con le nostre missioni Mi sono accorto di una cosa, qui in teoria dovrei o metterci un'altra slab Oppure levarla completamente perché se no non è simmetrica la cosa E devo essere sincero, un po' mi dà fastidio Quindi buttiamo questa slab e così il tutto risulta un pochino più utile rispetto a quello che normalmente abbiamo visto Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a fare ciò che bisogna fare oggi in questa puntata Ovvero creare una nuova struttura per un'altra cosa interessante Ovvero un mob spawner di zombie Perché? Perché come sapete nella missione del tier 7 Almeno una delle missioni del tier 7 Dobbiamo uccidere ben 120 zombie in totale Ci dà davvero pochissimi di gold ma è una missione che dobbiamo fare se vogliamo sicuramente salire È una delle missioni più difficili anche perché è una delle più lunghe Mentre le altre sono raccogliere ossidiana e diamante L'ultima si può fare anche abbastanza facilmente se riusciamo a trovare un buon metodo per poter andare nel nether O comunque riuscire in qualche maniera a recuperare un po' di oggetti Ma per ora non c'è modo alternativo per poterlo fare quindi dovremmo un attimo aspettare Non credo che ovviamente possiamo rompere l'ossidiana tranquillamente utilizzando il solito metodo piazzare E poi romperla perché se no sarebbe troppo facile Ma proviamoci assieme perché non sono completamente sicuro di questa cosa E magari funzionano lo stesso E giustamente ora a parte la laggata che non mi ha dato ancora il blocco Riproviamo ancora a vedere se funziona Niente non viene rotto quindi questi blocchi non vengono considerati come blocchi utili per poter scavare Quindi ho bisogno di forza di farmi 128 secchi di lava E la cosa potete ben capire è che non è tanto buona Quindi dobbiamo trovare un metodo alternativo per poter recuperare questa ossidiana Per ora non lo so quindi per ora andiamo soltanto a farci la parte relativa agli zombie Ovviamente prima di andare a recuperare uno spawner di zombie che compreremo probabilmente dallo shop generale Andiamoci a prendere soltanto una vote case Così possiamo aprire anche questa e vedere un po' che cosa riusciamo a trovare anche qui dentro Quindi andiamo dal nostro simpatico amico ad aprire la nostra vote case Sperando in qualcosa che non sia un semplice millino di dollari Perché non avrebbe molto senso Spero qualche tipo esperienza rara Anche i blocchi di gold non sono male perché comunque sono soldi alla fin fine Anche se ora che ci penso non so cosa farmene con questi Me ne doro probabilmente penso proprio di sì Comunque quindi andiamo un attimo a comprarci il nostro mob spawner Dal tipo che si chiama mob spawning Quindi giustamente cosa venderà il mob spawner E ci prendiamo un bellissimo zombie spawner per me 250k Ovviamente in totale prima avevo vi faccio vedere la bellezza di 400k Adesso ne abbiamo la bellezza di 198 Sì avevo 450k in teoria Quindi abbiamo abbastanza soldi Per poterci comprare anche un nuovo spawner se proprio vogliamo Ma per ora questo qui va bene Come vedete ci dice anche che cosa fa spawnare Li zombie e tutto quanto E anche ovviamente l'ID che ci serve Quindi questo spawner di zombie È uno spawner di zombie Quindi possiamo andare finalmente a crearci una farm di zombie E uccidere tutti quelli zombie che verranno creati da questo spawner E il posto migliore per poter creare questo spawner È proprio qui nell'angolino Infatti volevo già da subito levare questa parte qui Perché volevo crearne una ancora più grande Per quanto riguarda le vines E in realtà il metodo di guadagno con le vines non è così grande Quindi questa è giusto una cosa in più Per guadagnare qualche soldino quando serve Ma in teoria non è proprio la cosa che tutti vorrebbero fare Quindi recupero queste vines Tolgo questa cobblestone E creiamo il bellissimo posto Che andrà ad ospitare il nostro nuovo mob spawner Non automatico perché ovviamente dovremmo uccidere noi mob Visto che la missione ci crea di uccidere i mob Però in futuro se vogliamo Possiamo renderlo più automatico Ma credo non convenga anche perché con la spada in looting Forse guadagniamo di più noi uccidendo i mob Che facendoli cadere Credo proprio di sì Ho notato solo adesso che appare anche sopra Che tipo di mob spawner è Questa cosa è abbastanza inquietante E immagino si è fatta apposta per non farsi truffare Una cosa del genere Comunque stavo distruggendo questo muro Poi mi sono accorto del fatto che andrebbe anche bene farlo in questa maniera Tanto che noi vogliamo che i mob vengono tutti da noi Quindi possiamo crearci che ne so Una piccola struttura qua in mezzo Solamente che devo farla ovviamente giusta Perché voglio che sia giusta E quindi un attimo che prendo le misure E poi costruiamo il tutto con l'acqua Ovviamente l'acqua sarà la nostra migliore amica A poter trasportare i nostri piccoli amici Vicino ovviamente al punto in cui li uccideremo Manca solamente da fare le nostre slab Per far sì che i mob non escano Infatti utilizzerò un paio di slab di questo tipo Che sarebbe la stone Quelle sono belle da vedere Sono anche carine in realtà Per farci costruzioni Quindi ci sta Stavo pensando che magari Potevo cambiare la struttura del nostro mob spawner E farlo un pochino più decente Con magari Le so stone brick Che sapete che a me piace un sacco Però Per il momento non serve molto Quindi va bene così Ovviamente per quanto riguarda i mob Dobbiamo farli arrivare tutti qua E ci conviene un attimo fare parecchia attenzione Mettere un attimo così Così che possa uccidere Sicuramente sia i mob Meno ostili Quali di zombie normali Sia i mini zombie Che sono fastidiosi Ed escono ovunque Ovviamente conviene che io metta Un paio di hopper Così che i drop arrivino tutti qui dentro E facciamo anche una bellissima zona Con ovviamente i drop recuperabili Perché ci potrebbero servire Per fare dei soldi anche Dopo aver preso comunque Della roba per fare gli hopper Perché sono col cavolo che facevo gli hopper Visto che la farm di legno Automatica Per ora non ce l'abbiamo Abbiamo a disposizione Un po' di roba utile Tipo tutto questa E altre due probabilmente mi servono Perché due hopper li voglio mettere sicuri Tanto comunque tutti e due confluiranno Nello stesso posto Oppure no Teoricamente vorrei che i mob venissero tutti da una parte Quindi Ok forse dovrei creare un po' di cosette Il problema non so come Ma è risolto molto tranquillamente Tramite due secchi Che ho posizionato in entrambi i lati Così che tutti finiscano Almeno al centro Dove voglio io Che sarebbe qui Dove c'è un hopper Che poi è attaccato a un altro hopper Che è attaccato alla chest Con dentro la roba che ci serve E teoricamente dovrebbe funzionare Ho messo questo blocco qui di gold Che mi indica dove posso piazzare gli zombie E adesso devo tanto provare A vedere se tutto funziona abbastanza bene Speriamo che i mob cadano E che non vengano sponati sopra Teoricamente non dovrebbero essere sponati sopra Ma non ne sono sicuro al 100% Quindi lo scopriremo adesso Quindi abbiamo semplicemente stare qua a scappa Aspettare che loro cadano E boh poi dirgli ciao Ho sentito qualcosa che cadeva nell'acqua È uno zombie laggoso Perché sta anche laggando il severo Ovviamente perché c'è un sacco di gente Ma lo zombie c'è E indovinate un po' Adesso lo uccidiamo Il problema è che mi servirebbe una spada Un pochetto più decente rispetto a questa Perché questa non mi piace molto Più che altro non ha Chissà quale enchant sopra E qui dentro forse una spada Con Wither e sharpness Ok prendo questa che c'ha sharpness In realtà che mi piace un po' di più E andiamo a uccidere un bel po' di gente Mi sciottano anche con le frecce Maledetti Ok eccoli qua Uno E adesso morirà male Appena arriverà Peccato che non ho sharpness 5 Comunque ho ucciso uno zombie E gli altri dovrebbero scendere Ovviamente qui dentro Guardate un po' cosa c'è fra Mai Perché in realtà mi sa che non ho troppato nulla Nulla Esattamente Quindi funziona bene Però devo aspettare che esplorano i zombie E quindi metto un attimo qui Aspettiamo che arrivi un po' di gente E poi vi faccio vedere un po' com'è La cosa bella è che Teoricamente posso ucciderli tutti Ma ci metto un'eternità Quindi sto qua fermo E aspetto Fortuna vuole il server oggi Non va molto bene Quindi gli zombie che escono In realtà sono davvero pochissimi Quindi sto aspettando un attimo che cadano Ma ci vorrà un po' parecchio tempo Quindi io per ora vi saluto ragazzi Abbiamo creato questo bomb spawner Dovremo uccidere un sacco di zombie Ma lo faremo come solito In off camera E nella prossima puntata Voglio mostrarvi Se riesco a trovare comunque Un metodo funzionante anche qui Perché molti metodi ci sono Per fare l'ossidiana Però non tutti sono funzionanti Perché non tutti Sono disponibili in server multiplayer In cui c'è un po' di limitatezza E quindi cercherò un pochetto Di trovare il metodo migliore Per poter farmare l'ossidiana E in qualche maniera Vi faccio vedere come fare Quella missioncina Visto che secondo me È una missione Che molti di voi Sono diciamo bloccati Lì E vogliono in qualche maniera Completarla Quindi ve lo mostrerò Nella prossima puntata Vi invito a lasciare un bel like Mi raccomando A condividere il video E iscrivervi al canale E noi ci vediamo presto A un nuovissimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti